no ho scrittato un ragazzo e gli ho detto sei proprio sfigato però non ha risposto buon day benvenuti in questo nuovo video quanto mi mancava dirlo ragazzi ma quanto tempo è che non faccio video incredibile siamo tornati buon 2019 ragazzi ciao Martina mi mancava un sacco vi giuro fare video ero lì che tremavola dalla voglia di tornare però dicevo torno? non torno? torno? non torno? torno o non torno? torno o non torno? e sono tornato allora raga non iniziate a dirmi tipo farai video tutti i giorni anche adesso? no wait moment dovete farmi riprendere la mano poi si vedrà iniziamo con un video quando mi va vi spiego meglio perché praticamente ho notato che comunque facendo video tutti i giorni mi sono ripetuto un po' di volte con alcuni video e mi avete commentato anche tipo non fare più questo tipo di video l'hai già fatto quindi vorrei evitare di fare video uguali ripetermi vorrei fare video quando ho voglia quando ho le idee così non vi annoio sono a casa dei miei genitori oggi mi raccomando mi sono dimenticato di dirlo perché non sono più abituato a fare queste cose lasciate già un bel mi piace non l'avevo detto lasciate già un bel mi piace e commentate con con hashtag nuovo iscritto anzi no nuovo iscritto no con hashtag buon 2019 visto che questo è il primo video nel frattempo mi sono tagliati i capelli si e pian piano sto tornando castano non si capisce più niente insomma oggi sono qua per fare un video con mia sorella visto che a voi piacciono tanto i miei video con i video con mia sorella oggi sono tornato con un video con mia sorella ci scambieremo i telefoni per quanto 24 ore perché? facciamo tutto il giorno ci scambieremo i telefoni ok? non ho capito hai qualcosa da nascondere eh? eh? quindi ci scambieremo i telefoni per 24 ore e dobbiamo tipo fingere cioè io prenderò il suo telefono e se dovesse arrivare qualche messaggio dovrò fingere di essere Martina e lei dovrà fingere di essere me cosa succederà? boh io so che comunque ne combinerò delle belle con il suo telefono no t'ammazzo Giudeppe dai si 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 tutti quei ragazzi che ti scrivono li mando a quel paese eh? si 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 ok ora prima di iniziare il video cioè allora iniziamolo subito quindi dammi il telefono aspetta finisci la partita no finisci eh finisci la partita consegnami il telefono grazie prego ciao io ti do il mio eh ok password? si invece ci siamo scambiati il telefono e la password non te la dico ah no anche tu ce l'hai la mia password è ok ci siamo appena scambiati i telefoni io ora mi vado a fare la barba e poi ci sono nel frattempo però il telefono ce l'ho ah poi volevo dirvi una cosa ma mi son dimenticato ah si volevo dirvi che sicuramente arriverà il momento in cui ricomincerò a fare video tutti i giorni però non subito vi avviserò voi attivate la campanellina al canale che io vi avviso quando ricomincerò a fare video tutti i giorni perché adesso mi sono messo anche a fare video su instagram cioè prima ne facevo già ma ne pubblicavo uno ogni morte di papa adesso ne sto pubblicando davvero tanti quindi è una cosa che comunque mi impegna se volete seguirmi anzi no anche se volete dovete andare a seguirmi quindi Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto trovate dei video anche lì faccio dei mini prank delle robe tipo l'altro giorno mia mamma gli ho versato un litro di latte in testa per farvi capire comunque la famiglia adotta quanto mi mancava fare video ho l'alzheimer non la doccia la barba per evitare di chiedere sempre il codice a mia sorella mettimi a fuoco si raga mi sono fatto la barba eh quando sono cambiato sembro un bimbo allora per evitare di chiedere la password sempre a mia sorella mettiamo il face id inserisci il codice come si fa a metterne un altro? con un figura vabbè ora metto il mio face id e cominciamo perfetto adesso ho il possesso del telefono di Martina tac oh 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 cosa vedo qua oh? chi è sto tipo qua? chi è sto tipo come sfondo eh? mio amico un tuo amico? sicura? sicura? sono geloso eh? a noi speriamo sia un amico speriamo sia un amico capito io? oh e allora come fanno a vedere cosa faccio io? eh fai registrazione scarmo toh tieni la telecamera e mi vado a bere un caffè oh non vado a guardare le cose che ti riguardano eh tu? allora non so cosa fare ecco andiamo a vedere gli ultimi messaggi e cosa le rispondo? eh devi rispondere a qualcosa? non devi chiedere a me Martina eh ho capito io non devo sapere nulla non lo so io andato faccio un'insta storia sul tuo telefono ma chi è? faccio un'insta storia sul tuo telefono ma chi è questa? è una mia amica ah ah non mi scaga nessuno non ti preoccupare faccio una storia sul tuo telefono ah devo fare la registrazione a schermo? ragazzi ho rubato il telefono a mia sorella quindi oggi ci sarò io sulle sue storie va il bambone oddio raga ah ma a parte che ho fatto la registrazione raga ma io sono troppo buona non va bene sta cosa vado su instagram a fare una storia quindi qua è inutile che registro lo schermo buonasera a tutti ho rubato il telefono a Giuseppe e oggi vedrete solo me qui ah 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 allora ho rubato il telefono a Giuseppe quindi niente vedrete solo me oggi qua vabbè io riposto la storia eccomi del ritorno del padrone allora andiamo a rispondere a qualche messaggio allora vediamo con chi messaggi Martina ci sono solo ragazze qua Bea ci scrive puoi stare in chiamata e adesso le rispondiamo puoi stare in chiamata? no non voglio ciao poi non riesco a scrivere che tene la nostra foto come immagine whatsapp poi vediamo la gang delle wings mi state ops pensai che qualcuno dovrà dare delle spiegazioni a qualcun altro a fine giro l'altra lo so lo faccio litigare con tutti ora lo facciamo litigare con bagnato perchè non lo so perchè ce l'avevo qua e quindi non lo so però cosa gli posso scrivere? oddio non so cosa scrivere cioè dite che si chiamano fra tra di loro boh cioè io chi li capisce i maschi allora si ragli scrivo non lo so l'avevo fatto oddio che ansia raga aspettate no allora se visualizza vero se non è una merda però vabbè senti a fuoco vabbè gli ho scritto a me deluso raga ma come niente sta scrivendo sta scrivendo sta scrivendo no sta scrivendo va bene sta cosa sta scrivendo oh mio dio aspettate aspettate allora ma bagnato è furbo ma io non credo fosse così intelligente dai credo fosse stupida ma cosa gli scrivo? ah non lo so aspettate adesso lo facciamo aspettare perchè dobbiamo fare gli stronzi intanto lo facciamo litigare anche con Borroni cosa gli scrivo Borroni? scrivo anche lui mi è deluso perchè ho originalità eh ma poi cosa mi invento? no gli scrivo qualcos'altro sono passato di nuovo io al comando ragazzi qua big news hanno risposto tutti incazzati adesso qua Bea ha risposto no davvero cosa ho fatto mi sento un cazzo ok ok eh ok 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 ma il motivo non capisco se è ironica o se è seria pure io anche perchè non abbiamo fatto niente Bea risponde ma che cittadini no davvero che cosa fa allora scriviamo anche qua allora scriviamo questo che si chiama capezzolo adesso facciamo una storia su instagram indovinate chi torna su youtube? proprio io ok raga appena risponderà qualcun altro vi terrò aggiornati qua sempre coca combinando i peggio casini ciao gente mentre aspettavo ho scritto allora non so quanto si elegga vabbè fatto sta che gli ho scritto mi è deluso e lui sarà uno dei tuoi giochini oddio non metti a fuoco tra uno dei tuoi giochini dove devo rispondere strano non so in serio come vai e non so cosa dirli quindi visualizziamo e non rispondiamo Matteo gli ho scritto Matteo ha fatto una cazzata cosa è successo ora mi devo inventare qualcosa perchè non so cosa dirvi non so cosa dirvi ehm allora pensiamo che ho vagnato perchè ho visualizzato e non ho risposto ma cosa gli dico io dico che mi sono arrivate voci che ci spalla dietro anche se non ci crederà mai perchè comunque Giuseppe e Gabriele sono stralegati quindi boh dico mi sono arrivate voci punto no raga non ce la faccio io a fare gli scherzi cioè Matteo ha fatto una cazzata cosa è successo che cazzo ti dico allora appena mi viene in mente qualcosa registro giuro aspettate devo pensare mentre pensavo mi è arrivato un mio sette da bagnato e mi ha scritto anche i voci che cazzo ti dico no non lo so oi aiutatemi raga io vi chiedo aiuto su instagram cosa devo fare e no perchè poi vedono lì no non so no niente ma perchè non ho idee chiedo di aver appena fatto una cazzata perchè ho scritto a Matteo che ho venduto la macchina dei miei ma ti ha visualizzato ti ha visualizzato oh mio dio mi sta cagando in mano raga ha visualizzato e sta scrivendo non si vedrà mai neanche oddio questo telefono è impossibile da usare fermi tutti ora si vede forse giusto ma come fai qua a riprendere il telefono io non riesco si ok passi al comando no aspetta non si vede allora l'ho detto a voce cosa ho fatto ma non si vede ok guarda devi allontanare un po' il telefono così figa ok ciao levati ok oddio mi ha scritto ma serio no raga ma non si vede niente ok mi ha fatto una cazzata cosa ci sono venduto la macchina di miei ma serio e ora non so cosa scrive intanto andiamo a vedere ho bagnato eh ups ok ho bagnato in bici mi sono arrivati voci che voci aiuto questa luce scusa adesso accendiamo le luci che qua si sta facendo sera mettimi a fuoco ok ragazzi qua hanno risposto grandi news big news allora raga qua sto combinando il degenero su whatsapp di mia sorella allora capezzolo che gli abbiamo detto con me è chiuso ha risposto perchè senza vaccini e senza niente invece Bea ha risposto abbia almeno le palle di rispondere no adesso ho scritto grazie per avermi fatto prendere un infarto ha 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 mi sa che già ti amati scriviamo ad aron chi è questo aron non so chi sia questo aron ma adesso li scriviamo figato poi voglio sbirciare un po cosa c'è mia sorella nella galleria sono foto di xxx xxx tutte foto di xxx mia sorella è fissata con xxx e biondo infatti eccolo qua biondo belle foto di mia sorella ragazzi le belle foto di mia sorella raga fate tutti uno screen a questa foto fate tutti uno screen e pubblicatela ovunque su instagram taggandomi a mia sorella vagnato mi ha inviato un audio perché gli ha scritto sei uno sfigato adesso non mi ha inviato un audio gli ho scritto così perché non so che scherzo farli cioè non ho un motivo per qui essere incazzata con lui quindi io ho dovuto dire così cosa che ci girerò attorno e a mattina invece ho detto della macchina e lui mi ha detto così a caso ora vi faccio anche vedere dai chat no raga sono una merda poi comincia anche borroni mi ha scavato borroni troppo turbo non va bene questa cosa non va bene mi stai facendo uno scherzo avevo già sentito una cosa così no fra sono serio gli scrivo zio ci stai girando troppo intorno non hai minchiato ci vedi devi studiarlo meglio ma raga ma io non sono capace che cosa devo fare allora niente gli ho scritto sei un sfigato davvero da te non me l'aspettavo e gli mi ha inviato quest'audio che gli ha fatto sentire ma in che senso hai messo in affitto la macchina e l'hai riduta raga non lo so ho sparato la prima cosa che mi è venuta in mente cioè l'ho presa dal prank a Barbara D'Urso sta roba quindi non mi rompete ma è scritto perchè non so più cosa dire si scrivo e non so come ho fatto sono un idiota comunque prima mentre non avevo la telecamera ho anche fatto un'altra storia dove dicevo che Giuse ha il mio telefono e niente adesso devo dire un'altra roba Mi sono scorata di taggarmi Sono un genio Questa sono più o meno io Sul mio profilo Instagram Un po' sclerata Seguitevi su Instagram Mi lascerò il nome qua Ah no no Non ho risposta bagnato Gli scrivo Dovresti sapere cosa hai fatto Allora gente Ora Faremo Lo scherzo del tipo Non mi uscirà mai Però io ci provo Scriveremo a un'amica di Giuseppe Che io conosco nel senso che tocca E scriveremo che siamo innamorati Per la mente di lei E intanto che risponde Ho intenzione Di guardare un po' delle sue foto Mamma Vabbè io adesso la cerco E vediamo Cioè ma guardatelo Che cazzo fa Credo Non lo direbbe mai Giuseppe Ma neanche io Mi sta chiamando Le chiudo Le scrivo che non posso parlare Ok stai scherzando Ma perché I miei scherzi Non funzionano Ai diusto Cosa le scrivo No va che son serio Questa me la paghi Perché mi hai rovinato Un altro scherzo Ti odio Allora facciamo Una storia a caso Non lo so E questa non risponde Giulia Se mi risponde Vabbè Donate di camera Giuseppe Perché Almeno registra qualcosa lui Sperando che Non abbia Fatto cazzate Boh Ciao Cos'è che stai facendo Col mio telefono Basta È scaduto il tempo Ridammelo Guardate Tieni Basta Guardatelo Che stalker amici Dai Ero su Instagram Non è che ero su amici Amici no Hai visto qualche foto di biondo Me l'hai salvata No Ecco Sapevo io Bagnato T'ha visualizzato E non ha risposto Sì Grande Gabri No Grande Gabri Niente Gabri Sono arrivati a voci Gabri Ti ammazzo Capriene Per colpa tua Non mi è riuscito lo scherzo Ti sei andato a vedere la galleria Sì No Ho anche detto di fargli screen E postarli su Instagram Ma quante foto ti fai Cosa hai scritto Giulia Mi ero innamorato di te Cosa sei scello Eh devo vedere io adesso cosa mi hai scritto Ho scritto un gruppo a caso Non so Un gruppo di amiche Un gruppo Un gruppo di amiche Un gruppo della grazia Poi si è andato un po' a sbirciare nella galleria Ho scritto a un ragazzo E gli ho detto Sei proprio sfigato Però non ha risposto Aaron Sei scemo Sei scemo Allora ragazzi Il video termina qua Spero vi sia piaciuto Hai scritto a capezzolo A capezzolo Ok No Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Come stai controllando Stai un botto di gente Controlla controlla Poi ho fatto un po' di storie Col tuo Instagram Tu ne hai fatte col mio Perché ero sul tuo Instagram Ho visto il mio Seguiteci su Instagram Giuseppe trattino basso Trattino basso Barbuto E Martina trattino basso Trattino basso Barbuto Ho già detto Come non detto E niente Noi ci vediamo Un prossimo video Questo 2019 Sarà pieno di cose Sia qua su Youtube Che su Instagram Restate sintonizzati Mi mando un bacione E consigliatemi nei commenti Qualche altro video da fare Che vi piacerebbe vedere Con mia sorella Saluti Sei fuori Sei fuori Ehi puoi stare in chiamata No Non voglio Ciao Ma sei scemo Visualizzi meno male Le ho scritto che era Sto dei VJ Che sai com'è Saluta Non farò meno educata Ciao bellissimi Bella Ciao